Il giorno e la storia. Oggi è il 5 dicembre. 1791. Muore Wolfgang Amadeus Mozart. 1933. USA. Finisce la stagione del proibizionismo sull'alcol. 2007. Incidente alla ThyssenKrupp di Torino. Muoiono 7 operai. Commenta il fatto del giorno Nunzia Vallini, direttore del giornale di Brescia. Con il governo Moro nasce il centro-sinistra. Accanto ai democristiani siedono i socialisti.